Musica Abbiamo tritato i biscotti Abbiamo aggiunto la cannella, il miele e il burro fuso Abbiamo mescolato bene E abbiamo creato il guscio della torta Poi abbiamo amalgamato la robiola e la ricotta setacciata Abbiamo aggiunto lo yogurt e lo zucchero e la scorza di limone Abbiamo grattato via i semini da un baccello di vaniglia E li abbiamo uniti all'impasto Abbiamo sbattuto le uova e le abbiamo aggiunte Abbiamo unito la panna e la farina setacciata, molto delicatamente Abbiamo versato la crema nel guscio e l'abbiamo infornata a 160 gradi per 55 minuti L'abbiamo fatta riposare in frigorifero, l'abbiamo impiattata L'abbiamo guarnita con la marmellata di lamponi e con le fragole fresche e lo zucchero a velo L'abbiamo guarnita con le fragole fresche e lo zucchero a velo